A presto 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 Dijan se checkerò Tu mi dice che sei il mio padre Ma la tua Il mio padre è molto Che è iniziato a qualcosa di Atkà ho avuto Bocca sui Che iniziato a Babbà è iniziato Converso 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 questo è un grande maia cosa può fare si è capito questo è quello che ha detto che chi si mangia e che si mangia non può essere non può essere non può essere per l'iscrizione questo è quello che ha detto che la mia cipolle e la mia cipolle iso qui dove il prodotto bisogna abbia remember e e stanno il prodotto che ha ascoltato il prodotto sometimes nascosto un'altro è un'altra ore e non lo faccio un minuto non lo faccio non lo faccio come si chiama il corpo non lo faccio il rai di più non lo faccio il quale è e tu che cosa è e tu che cosa è il quale è il corpo di l'acquita che hai il tuo padre il tuo padre hai il tuo padre il tuo corpo e tu sei il tuo corpo e tu sei si chiede il corpo, non ha detto prima, ma per quanto tempo è facile, si chiede la登zione di al giorno e giorgi, si chiede il corpo, si chiede il corpo, in cui si prende, in cui si prende, ci sono cose che sono cose che molte cose che non si chiudono, Ora cosa diciamo? che non resta nessuna cosa. Bauddhi me ha sempre Baba ho una chai Nirakar ho vò bhi Bacchè a'tque Maya jal hai Sab jai e gà Kuch nè in bache gà E khanne ke pichè Pahenne ke pichè Giàdà samimat gava ho E coi coi bacchè Giò samei nèhi gavate Baut acchì bàt Par unki dill usi me a'tque Samei bilkul nèhi gavate Pahenna, khana, pina Sab shortcut me karete Phata phata babakethe Par dill vaha par hi a'tque Abhi inki gati kya hooggi Tum maya ko kam Nihi sameshna Babakethe dhyan se Baitkar check karna Tumhare jeevan me Baap ke liye Jho baapka pyaar hai Tumhara Woh kitna percentage Hai Or kisì vastu Ka kitna percentage Hai Jiska adik hooga O antasamei me Yad aayega Or adik se bhi Baba ye kehna chaheega Ninety nine percent Baap se pyaar hai Or one percent Kisii vastu padarth me Rishthe nate me Pad position me A'tka hai Baba kate me Lik ke dhetau One percent Waala hi anta Samayi me Yad aayega Lik ke dhetau Tumhye Samajh ki baat hai Hundred percent Baap me Buddhi hoogi Tuhi baap Yad aayega Varna Baba kate Bhuul jau Baap ko Yad karna Masi ka Ghar nai hai Isle Buddhi ko Hattau Varna Baba Ketai Padabhrašt Ho Jai Gita Jaga Sajinia Jaga Om Shanti Abhi ya Toh Bacche Jantate Yut Toh Sari Duniya Me Sab Ketate Khi Hum Sabhi Aapas Me Bhai Bhai We are All Brothers Paranthu Kiyo Nahi Un Aatma Ko Yuh Samjh Me Aatah Khi Hum Baap Ke Bacche Vah Rachita Hai Hum Rachna Hai Janvar Toh Nahi Keheng Hum Brothers Hai Manushya Hi Samjhteh Hai Or Ketate Bhi Hai Khi Hum Sab Brothers Hai Rachita Baap Ek Hai Us Koha Jata Hai Parampita Parmatma Ais Ho Nahi Sakta Khi Behen Ko Bhai Keh Jab Sab Aap Aatma Sama Sama Tabe Ketate Hai Hum Aapas Me Bhai Bhai Hai Sivay Aatma Ke Or Kuch Ho Nahi Sakta Ek Baap Ke Jismani Bacche To It Nahi Ho Sakta Abhi Tum Ko Acchhi Tari Yad Hai Aatma Aatma Grazie a tutti. 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 Om Shanti.